Sono in leggero calo i contagi da Covid-19 in Sicilia, anche se il numero rimane ancora alto. Su più di 7.000 tamponi effettuati, 233 quelli positivi, 26 in meno rispetto a giovedì. Stazionario il numero dei ricoveri con sintomi sono 376 più 2 in terapia intensiva, 35 in tutto, quasi 3.500 in isolamento domiciliare in 24 ore, quindi soltanto due i nuovi ricoveri e quattro i morti. E la Sicilia è seconda solo alla campagna per indice di contagio RT, che passa da 1,19 a 1,22. Ascoltare al più presto il Comitato Tecnico Scientifico Regionale ed il Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid in provincia di Palermo, Questa la richiesta della deputata regionale Marianna Caronia. Nel capoluogo siciliano, infatti, continua a registrarsi il maggiore incremento di casi, 85 in un giorno. Seguono Catania con 77 positivi, Messina con 22, Ragusa con 15, Agrigento con 12, Siracusa con 11, Trapani con 7 e Caltanissetta con 4. E su un eventuale lockdown in Sicilia, l'assessore alla salute Razza risponde, pensiamo ad un blocco selettivo in alcune aree. Numeri preoccupanti anche nel resto del paese, 5.372 i contagi in un solo giorno, a fronte di oltre 129.000 tamponi processati, più 161 i nuovi ricoveri con sintomi, 4.086 in tutto, 29 in più in terapia intensiva, adesso sono 387. Nonostante il continuo aumento dei ricoveri, non si registra però un sovraccarico delle terapie intensive. Cresce anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, sono più di 65.028 i decessi. In questa fase bisogna essere estremamente prudenti, evitare assolutamente aggregazioni ed eventi sia pubblici che privati, utilizzare sempre la mascherina, adoperare misure di distanziamento fisico e curare l'igiene delle mani. Intanto non sono da escludere nuove restrizioni.